Cornetto Vicentino si freggia di un team, un vice campione d'Italia 2023, lo Squash Club Pegaso che al campionato italiano di prima categoria a squadre, aperto a junior e senior, svoltosi al centro tecnico federale di Riccione, ha conquistato nel mese di maggio l'argento a squadre, cedendo solo nella finale. Un nuovo podio nazionale e altre soddisfazioni portate in Veneto dalla trasferta a tricolore per gli atleti cresciuti negli anni in un'associazione sportiva, ha ragione considerata un punto di riferimento dello Squash italiano, tra le prime tre realtà nazionali in ambito giovanile, con decine di atleti che nel tempo hanno vestito la maglia azzurra. Il team cornedese fa della passione per questa disciplina, il talento, la sua forza. La squadra che ha partecipato alla finale nazionale era composta da Giovanni Staurengo, classe 2003 di Trissino, attuale numero uno della classifica nazionale di prima categoria, Elisa Zambon, classe 2003 Marano Vicentino, Gioia Reniero, classe 2006 Cornedo, Gioele Reniero, classe 2009 di Cornedo, attualmente secondo nella classifica U15 italiani, Riccardo Montagna e Alex Rossato, entrambi classe 2006 di Valdagno. Dopo una difficile e per nulla scontata vittoria in semifinale contro l'Academy Lambrate Milano, il Pegaso è giunto in finale. Grazie.